mister aveva chiesto cattiveria agonistica la squadra si aspettava una grande prova cosa non ha funzionato oggi non ha funzionato l'approccio siamo partiti male molto male ed è un peccato perché perché avevo avvisato i ragazzi lo sapevano avevamo preparato la partita in maniera molto più aggressiva soprattutto dai minuti iniziali invece l'approccio è stato è stato sbagliato c'è stata poca di quell'energia che era che era stata chiesta e quindi la partita si è messa si è messa subito male abbiamo preso due gol a difesa schierata in situazioni evitabili e quindi poi dopo diventa tutto difficile perché loro si richiudevano ti giocavano di ripartenza e diventava sempre molto difficile trovare trovare spazi e purtroppo la partita si è incanalata nella nel verso sbagliato calciomercato.it come si riparte da una sconfitta così cosa servirà a rientro dopo la sosta ma servirà quello che abbiamo messo in altre situazioni quando quando non abbiamo non abbiamo fatto bene ma la cosa che più deve deve essere chiara a tutti è quello che bisogna andare in campo dal primo secondo con con l'attenzione giusta con la voglia giusta con l'aggressività giusta perché è la cosa è la cosa più importante non si parla di un discorso tecnico di un discorso tattico si parla proprio di un discorso caratteriale no un discorso di di forza caratteriale e purtroppo oggi ripeto siamo partiti male e abbiamo pagato subito dazio este news come mai tanti gol presi così a inizio gara e spesso c'è l'incapacità di reagire quando si va sotto sono d'accordo è un argomento che non abbiamo mai affrontato ma che che io affronto spesso con la squadra con il con il staff con la società da un dato che abbastanza chiaro sotto questo punto di vista ne abbiamo vinto solo due partite quando abbiamo preso gol e li abbiamo vinte perché eravamo 2 a 0 e questo ci deve far ci deve far ragionare io è una cosa sulla quale sto lavorando è normale che io non posso entrare e cambiare la mente il corpo il del giocatore una cosa sulla quale bisogna lavorare da squadra il fatto di avere quella voglia e volontà di non perdere lucidità anche se durante la gara prendi un gol se non perdere misure non andare in frustrazione ed è per questo che abbiamo bisogno e avremo bisogno soprattutto in questo momento perché siamo ancora in una posizione di classifica buona abbiamo bisogno di aiuto di sostegno abbiamo bisogno di non mettere sulle spalle di questa squadra sempre il fatto che debba per forza vincere una partita ma come deve vincerla i ragazzi devono non devono andare in frustrazione quando magari in dei momenti della gara puoi soffrire un attimo l'avversario invece quello che succede che appena prendi un gol probabilmente la pesantezza del risultato incide poi dopo a livello caratteriale questo non deve succedere bisogna avere una reazione bisogna lavorare da squadra bisogna essere forti caratterialmente per poter riuscire anche quando succede a ribaltare delle situazioni negative ultime due domande carta canta web la formazione nel secondo tempo ha dimostrato più possibilità di soluzioni soprattutto offensive e ho cercato di dare di dare una svolta alla gara ho messo più imprevedibilità davanti un po più di velocità e per certi versi c'è anche riuscita perché comunque eravamo ripartiti anche abbastanza bene poi il rigore ha un po' frenato la nostra voglia di recuperare se riuscite a trovare subito il gol del 3 a 1 abbiamo avuto la palla per fare il 3 a 2 che poteva magari darci un ulteriore slancio l'abbiamo l'abbiamo sbagliata e però il fatto di avere dentro magari così tanti poi offensivi ti portava da a prendere delle ripartenze che abbiamo logicamente preso come succede a tutte le squadre quando quando devono recuperare un risultato e si buttano tutti all'attacco chiudiamo con forza monza sconfitta pesante secondo posto momentaneamente perso è il momento più difficile di questo campionato è il momento è un momento difficile ma ci sono ancora otto partite io quello che chiedo a tutti è quello di creare come sempre positività nell'ambiente non dobbiamo fare una tragedia sicuramente fa male anch'io sono il primo ad essere arrabbiato sono sono molto molto arrabbiato per questa per questa partita ma allo stesso tempo fino ad oggi abbiamo fatto un buonissimo campionato siamo ancora lì ci sono otto finali da da giocare abbiamo bisogno del sostegno di tutti l'errore più grande sarebbe quello di rovinare un qualcosa che che stiamo cercando di fare c'è bisogno di sostegno stiamo tutti uniti dobbiamo essere un'unica famiglia che rema tutte dalla stessa parte per arrivare ad un ad un sogno che è quello che tutti vorremmo realizzare ma che si conquisterà solo con tanta fatica con tanta voglia con tanta unione